Ciao a tutti, sono Alona Mittiga, Italian Marketing Manager e con alcuni di voi ci siamo già incontrati nei precedenti eventi Trexoft in Italia. Sono felice di annunciare che siamo per tornare con 14 nuovi eventi networking che potete trovare già disponibili sul nostro calendario nel sito web. Gli eventi sono dedicati a tour operator che vogliono aumentare le proprie prenotazioni facendo networking, semplificando la gestione ed adottando un marketing moderno. Ci saranno guest speaker esperti come ad esempio Claudio Belinzona di Musement, contenuti e guida al marketing digitale turistico gratuite ma anche potenziali partner da conoscere.